Allora, proseguiamo e chiamare sul palco i nostri prossimi due ospiti. Ginevra Madio, che si è laureata con l'Ode in Scienza Umanistica presso l'Università Lums di Roma, con una tesi in letteratura italiana contemporanea. Interessata al rapporto tra letteratura, movimenti sociali e violenza politica degli anni 70, ha poi proseguito i suoi studi laureandosi con l'Ode in Filologia Moderna presso l'Università di Roma. È giornalista e pubblicista e collabora con webzine e riviste culturali, occupandosi prevalentemente di letteratura otto-novecentesca, di cinema e rapporto tra le arti. Molto di recente, è partito un suo reportage sulle pagine del sito del Premio Comisso, che si chiama La Fabrica della Bellezza, e di cui parleremo ampiamente oggi pomeriggio. Accanto a lei c'è l'imprenditrice Elisa Geracrull, ha studiato presso l'Università di Boston, Rounds in Comunicazione. A soli 25 anni, nel 1991, prende in mano le eredini dell'azienda di famiglia, diventando presidente e amministratrice delegata del marchio HK, che è stato fondato nel 1869 da Herman Krull. HK è un marchio specializzato nella protezione di spazio in pura seta, questo all'inizio, ma poi la produzione, vedremo, si è ampliata, tracciando altre linee. Negli anni il marchio ha aumentato le quote di mercato, e alla 74esima mostra del cinema di Venezia è stato presentato anche un cortometraggio che ha chiamato appunto la fabbrica della bellezza del regista Vicentino Giancarlo Marinelli, che racconta appunto la storia di queste quattro generazioni che hanno attraversato la vita di questa azienda. Allora io inizierei proprio da Elisa Gerakrull, e inizio con una domanda, quindi le do un po' il via. Io ho notato che lei si è laureata a Boston in comunicazione, e che praticamente da molto giovane ha preso in mano le eredini della famiglia. Quello che le vorrei chiedere è se questa decisione è stata una decisione sofferta, in primo luogo, perché magari a quell'età lì forse aveva anche altre aspettative, ma poi, una volta presa questa decisione, se quanto ha studiato a Boston quella comunicazione le è servita per comunicare all'esterno la storia dell'azienda. Beh, allora intanto grazie per essere stata invitata. Grazie per essere stata invitata oggi pomeriggio qui. Mi fa molto piacere poter raccontare la storia, appunto, di questa azienda che è legata al territorio di Treviso, infatti è stata fondata nel 1869 da mio bisnonno. Io rappresento la quarta generazione, quindi è un'azienda che è nata alla fine dell'Ottocento e quindi ha passato due guerre mondiali ed è ancora qui oggi, quindi è proprio una fabbrica trevigiana. Io sì, ho studiato a Boston e da studente poi, quando mi sono laureata, non è stato assolutamente difficile ed un peso per me venire in azienda, nel senso che è lasciare magari altri studi all'estero. Però diciamo che questa azienda rappresentava la storia della mia famiglia, era stata fondata da mio bisnonno e la sentivo non come un'impresa, ma proprio la sentivo dentro di me come una famiglia che doveva essere portata avanti. Quindi per me non è stato per niente un peso iniziare a lavorare in azienda ed è una cosa che tutt'oggi, dopo 30 anni di lavoro, mi dà tantissima soddisfazione, la passione è enorme e lo faccio con grande entusiasmo. Il fatto che io abbia studiato in America, devo dire che sì, mi ha aiutata, non tanto per quello che ho studiato, cioè il tema della comunicazione, che probabilmente l'avrei potuto studiare anche qui in Italia, a Milano, ci sono tantissime università importanti, però il fatto di vivere all'estero sicuramente mi ha dato tantissima energia e mi ha fatto capire che se uno ha dei sogni e li vuole portare avanti, se ci mette dedizione e lavoro lo può fare. E questo penso che, diciamo, lo stile di vita in America mi abbia dato un po' di energia nel farlo. Bene, allora passerei a Ginevra Amadio per chiedere di raccontarci un po' il suo progetto col premio comisso e anche ovviamente poi ritornare al caso di HK che ha raccontato in uno di questi articoli. Sì, allora, questa idea di reportage del viaggio delle fabbriche della bellezza è nata proprio dal presidente dell'associazione Amici di Comissio Ennio Bianco che mi ha proposto, insomma, quest'idea che ho subito accolto. Peraltro, ecco, se posso permettermi una notazione personale, l'idea e la proposta è arrivata proprio in un momento e in un luogo particolare che io ho ricevuto questa telefonata mentre mi trovavo a Venezia dove vivevo fino a pochi mesi fa e improvvisamente ero in campo Santa Maria Formosa e dei turisti mi si avvicinano e mi chiedono informazioni su Palazzo Franchetti, come arrivare perché allora c'era la mostra di Lee Miller quindi una fotografa artista surrealista e l'ho trovata ripensando andando indietro col pensiero una sorta di segno del destino perché l'idea di bellezza che è poi un concetto così slabbrato insondabile dai contorni mai pacificati poteva per me essere compresa soltanto adottando un po' le lenti del surrealismo ma non è una chiave onirica è una chiave di rottura del sistema cioè tra i dettami del surrealismo c'è quello proprio del rifiuto della normatività e quindi del rifiuto delle norme di ogni tipo di steccato di un rifiuto dell'autorità e di conseguenza del senso comune di ogni discorso che pertiene a delle logiche predefinite da altri standardizzate quindi parlare di bellezza in relazione all'industria significava provare a perimetrare il tema sciogliendo anzitutto le dicotomie una tra tutte è chiaramente quella ampiamente citata oggi modernità antimodernità ma chiaramente anche il concetto di cura bellezza contrapposta all'idea di produzione oppure di cultura contrapposta all'idea di mercato quindi a un certo punto cominciando a studiare i nomi di diverse aziende del territorio trivigiano che poi sarei andata ad incontrare mi sono fatta l'idea che questo è questo territorio e le aziende che finora ho incontrato e che continuerò poi a visitare rappresentano un osservatorio privilegiato di questa idea di bellezza svincolata dal senso comune svincolata anche da tante banalizzazioni soprattutto appunto l'idea che necessariamente le logiche di mercato non solo abbiano vinto ma debbano guidare in maniera quasi spregiudicata secondo quelle che sono poi le narrazioni passate nel tempo con significative eccezioni che comunque ci sono anche in campo letterario tutt'oggi e quindi sono entrata all'interno di queste aziende con l'idea di studiarne la storia e trasferirne l'anima visto che abbiamo parlato tanto di insomma parole anche usurate parole di un altro secolo parole novecentesche tra queste chiaramente fortemente legata ad un'ideologia che ha connotato il novecento c'è l'idea di rivoluzione e io però parlando di bellezza ho ricordato mi è venuta alla mente una parola di anzi una frase del pittore greco naturalizzato italiano che è sconellis che diceva che la bellezza è un fattore rivoluzionario e intendiamoci rivoluzionario in che senso Camus per citare un appunto un altro grande intellettuale diceva che le rivoluzioni non hanno la bellezza non fa le rivoluzioni ma arriverà il giorno in cui queste avranno bisogno della bellezza e quindi intendere il concetto rivoluzionario di bellezza poter cambiare paradigma della narrazione dell'industria è qualcosa di rivoluzionario e lo si può fare partendo da qui vedendo le tante aziende che lavorano in relazione al territorio hanno un'attenzione al territorio al fattore umano come elemento di crescita quindi non c'è alienazione non c'è spersonalizzazione e coniugano innovazione e tradizione quindi io tutte quelle che finora ho incontrato che ho raccontato sul portale del premio comisso da Antiga a Bosa HK Giordanos insomma ho incontrato persone imprenditori che sono innanzitutto delle belle persone delle persone che coltivano un sogno appunto l'HK è in particolar modo la concretizzazione e la continuazione di un sogno attraverso le generazioni ed è soprattutto un incrocio di macro e micro storia quindi questo è un po' quello che è la base dell'idea e del progetto e quello che sto riscontrando in tutte le realtà incontrate finora tra cui appunto l'HK che è poi veramente una fabbrica della bellezza tra l'altro quando abbiamo scelto il titolo viaggio nelle fabbriche della bellezza non ricordavamo che il documentario di Gianfranco Marinelli di Giancarlo Marinelli si intitolasse la fabbrica della bellezza quindi è stato forse un ulteriore segno del destino e l'idea che dovevamo portare avanti questo progetto quest'idea attualmente se non ricordo male il reportage sono in circa 6-7 7 interventi allora io ti volevo chiedere dopo questi 7 interventi hai già qualche dato in mano quali sono secondo te i punti in comune tra tutte queste tappe che hai fatto in questi mesi cosa hai visto passando da un imprenditore all'altro allora come dicevo sono tutti quanti settori diversi veramente appunto andiamo dal libro alla comunicazione appunto ai prodotti che riguardano il mondo del beauty ai radiatori però ecco sicuramente un punto in comune è l'attenzione io lo metto prima della cura del dettaglio perché è interessante anche per uscire come dicevamo dai discorsi banalizzanti l'attenzione al fattore umano cioè l'idea che tutti quanti hanno un grande rispetto non solo del lavoro manuale perché poi comunque chiaramente lo vanno a coniugare con un'attenzione alla macchina alle nuove tecnologie ma proprio del dipendente sono le persone che fanno la fabbrica il DNA della fabbrica quindi ogni ogni idea viene accolta e viene discussa viene rispettata quindi sicuramente questo veramente è la base del terreno comune dall'altro lato c'è appunto come dicevo la cura del dettaglio che va davvero dall'attenzione appunto alla bellezza alla perfezione del prodotto che deve essere appunto sempre non deve avere una smarginatura ecco e dall'altro lato l'idea che il bello quindi il prodotto ben fatto un libro bello come oggetto per antica o un maglione come il caso di Giordano su una spazzola come il caso di HK ha un'idea alla base perché è la stessa azienda che si fonda sull'idea prima che sul commercio prima che sulla logica di mercato sì allora ritornerei alla dottoressa Gera per chiederle di raccontarci un po' della storia della sua azienda lei parlava diceva che aveva attraversato le guerre Ginevra diceva rapporto tra micro e macro storia diventa una storia già di per sé è estremamente affascinante no? sì diciamo che allora faccio un breve riassunto della storia anche se 150 anni raccontati in 5 minuti non è semplice comunque è stata fondata da mio bisnonno Herman Krull infatti le iniziali di HK sono le iniziali di Herman Krull lui è arrivato dalla Germania da studente intorno alla fine del 1800 quindi nel periodo un po' del romanticismo si è innamorato dell'Italia come tanti nordici a quel tempo che si innamoravano appunto del paese dei limoni e si è fermato prima a Savona da studente e poi è venuto a Venezia a quel tempo a Venezia c'era una comunità tedesca importante lui chiaramente si è innamorato di questa meravigliosa città e ha iniziato a commerciare commerciava in setole che venivano dall'Oriente e allo stesso tempo vendeva le perle veneziane e così è nata un po' questa storia a un certo punto ha acquistato una fabbrica di setole le setole sono le setole che si utilizzano per fare diversi tipi di spazzole che arrivano appunto una volta venivano ricavate appunto dal pelo degli animali e acquista questa azienda del territorio trevigiano che non riesce più ad andare avanti e inizia così a fare questa fabbrica di spazzole le spazzole a quel tempo non erano le spazzole di oggi che sono spazzole per la bellezza ma spazzole di tutt'altro tipo spazzole per carrozze spazzole per cavalli facevamo le spazzole per cavalli per la corona inglese quindi spazzole per l'utilizzo in casa per i cappelli cioè tutto un altro tipo di prodotto lui ha quattro figli scusate sei figli due muoiono purtroppo in guerra uno muore a Verdun nella prima guerra mondiale e uno poi in Corsica e nonostante queste difficoltà porta avanti comunque con passione la sua azienda è sempre stato di nazionalità tedesca e quindi durante la prima e la seconda guerra mondiale l'azienda viene confiscata dal governo e lui si trova a doverla riacquistare tant'è che deve vendere una mi raccontano avevo una collezione bellissima di Franco Bolli la deve vendere per riacquistare l'azienda e quindi diciamo una storia abbastanza travagliata però diciamo la sua passione nel lavoro gli ha dato la forza di attraversare dei momenti molto difficili poi appunto l'azienda viene portata avanti da mio nonno dal fratello di mio nonno che lavorano sempre tutti i giorni fino a 90 anni vorrei dire c'è la terza generazione che forse salta e poi entro io negli anni fine degli anni 80 e porto un po' di novità all'interno dell'azienda in quanto il mio sogno era proprio quella di farla diventare la fabbrica della bellezza quindi cerco di associare a spazzole e spazzolini da denti che nel frattempo abbiamo iniziato avevamo iniziato a produrre negli anni 50 tutta una serie di prodotti che servissero diciamo alla bellezza della persona quindi dalle fragranze ai prodotti per il corpo e chiaramente continuiamo tutt'oggi a fare le spazzole per capelli e siamo leader un po' nel mercato in quanto vendiamo un po' in tutto il mondo in più di 60 paesi e tutti questi prodotti vengono tuttora prodotti a Treviso in Viale Luzzati esatto 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 no no produciamo sempre anzi diciamo che proprio per i discorsi che facevate prima la nostra azienda è un'azienda particolare in quanto io la ritengo una grande famiglia i nostri dipendenti arrivano tutti alla pensione e la cosa più bella ci sono lì da più generazioni a volte anche alla terza generazione e questa è una cosa che si trova difficilmente nelle aziende però è una cosa a cui io tengo tantissimo perché da imprenditore per me è sicuramente importante fare il prodotto farlo bene farlo bello soprattutto però la cosa che il ruolo diciamo sociale che io sento dentro di me verso queste persone che lavorano in azienda è la cosa che forse a fine giornata mi appaga di più quando una persona mi ricordo due natali fa gli confermai il posto di lavoro da temporaneo ha indeterminato e mi dice questo è il regalo di Natale più grande che mi può fare io sono andata a casa ed ero la persona più contenta del mondo quindi direi che il lavoro da imprenditore non è solo il lavoro di tutti i giorni ma anche tutte queste cose che ci vengono date grazie vorrei chiedere anche a questo punto diciamo oltre che il rispetto delle persone c'è anche un vero rispetto della vostra storia e siete riusciti a raccontarla si parla diceva del film c'è un libro ci vuole raccontare come sono nati e anche che ruolo ha questo raccontare la vostra storia per voi stessi raccontare la storia è sicuramente importante perché se si guarda al passato poi ti viene l'energia per guardare al futuro e di portarla avanti una cosa importante è che la nostra azienda è sempre stata nel cuore di Treviso e che negli anni 80 quando appunto bisognava decentralizzare o portare il lavoro magari all'estero o anche io avrei potuto vendere l'immobile che magari poteva avere un utilizzo diverso ed andare in una zona industriale magari come tante altre ho cercato di tenere l'azienda in città dove era dove era stata fondata proprio perché ritenevo importante si innovare ma mantenere la tradizione e questo devo dire oggi questo mio andare controcorrente perché tutti mi dicevano che non era sicuramente una cosa da un punto di vista imprenditoriale da fare oggi invece mi sta dando ragione cioè quando vengono i miei clienti del Giappone piuttosto che della Cina e vedono l'azienda nostra rimangono impressionati quindi tante volte magari anche andare controcorrente e fare quello che ci si sente dentro porta a dei risultati che sono diverse dalle logiche di mercato io ho una domanda per entrambe prima si parlava in relazione al reportage il fatto che gli imprenditori pensano molto all'idea che c'è alla base del prodotto e quindi mi stavo chiedendo siccome non basta più creare un prodotto per venderlo ma bisogna lavorare anche sull'idea come si fa a comunicare un'idea in modo vincente quindi questa è per tutte e due partito beh allora diciamo dal parlando adesso da persona che lavora anche nella comunicazione in qualche modo devo dire che raccontare un prodotto in maniera vincente allora sicuramente bisogna crederci nel senso se alla base del prodotto alla base dell'azienda c'è un'idea appunto Elisa adesso l'ha raccontato in maniera più spontanea possibile perché lei oltre a commuoversi ad essere emozionata e fiera di quella che è la storia dell'azienda crede profondamente in quello che fa e così anche io mi ricordo quando abbiamo parlato ma lei non è stata la sola anche altri imprenditori che ho incontrato mi hanno spesso detto al di là appunto del profitto prima di quello se un'idea ci piace un prodotto ci piace magari sappiamo che non farà tanta strada perché magari insomma è molto costoso guarda un mercato che si sta espandendo eccetera però lo facciamo perché ci crediamo perché crediamo nel bello crediamo nella funzionalità e anche questo è parte della nostra missione quindi si vede quando te lo raccontano si vede che c'è una storia alla base e dal punto di vista ecco da giornalista mi è piaciuto anche a me parlando personalmente riportare proprio anche questo raccontare magari certi prodotti penso ad esempio a delle ceramiche di Bosa particolarissime che alla base hanno avuto appunto un amore da parte degli ideatori di chi l'ha realizzato e quindi chi può fare chi lavora nella comunicazione rendere il miglior servizio parlando appunto anche delle sensazioni che questo dà che l'incontro ha dato ecco questo è quello che io mi sento di dire sì beh anch'io condivido assolutamente questo diciamo che noi mettiamo davanti a tutto la qualità del prodotto quindi quando un prodotto è fatto bene è difficile che non piaccia poi lo comunichiamo lo comunichiamo chiaramente oggi lo comunichiamo attraverso i social lo comunichiamo attraverso la comunicazione e tutto quanto però vorrei dire che quando il prodotto è fatto in un certo modo e questo viene visto dal consumatore finale penso che si venda un po' da solo ecco noi facciamo delle spazzole le facciamo alcune di queste le facciamo fatte a mano hanno dei costi elevatissimi ma per dire le vendiamo in Cina dove ci sono spazzole che magari costano un centesimo rispetto alle nostre eppure il nostro prodotto è apprezzato vorrei chiedere a Ginevra che si è occupata appunto della bellezza delle fabbriche della bellezza anche se secondo te esiste una differenza nel concepire la bellezza da parte dell'impresa e da parte dell'arte invece per cui l'arte diciamo che a volte è ritenuta come bellezza ma come sappiamo l'arte non è bellezza cioè solo casualmente può essere bellezza ma spesso è anche mettersi di fronte mettere in crisi rispetto a a delle cose non sempre belle quindi pensi che esista un rapporto tra bellezza e impresa e bellezza e arte che sono in relazione tra di loro o com'è questo rapporto? Sì allora sicuramente prese singolarmente come appunto illustravi sono implicano dei concetti e delle concezioni diverse però un rapporto stretto secondo me è sempre esistito guardiamo alla storia guardiamo a come appunto c'è stato il mecenatismo c'è stato appunto un interessarsi da parte degli intellettuali che dagli scrittori agli artisti al mondo comunque se vogliamo che lambiva l'impresa o aveva comunque a che fare con delle pratiche di mercato e quant'altro quindi può esserci sicuramente una conciliazione che non può non partire da delle basi comuni cioè dall'idea comunque di voler trasmettere bellezza attraverso o che sia un manufatto che sia un prodotto che sia un'idea che si concretizza poi appunto in qualche cosa di materiale e poi allo stesso tempo anche la è vero che la bellezza dell'arte o l'idea comunque che l'arte ha non soltanto è quella di accarezzare ma di mettere in crisi e fare delle domande e anche il concetto di bellezza declinato sul piano dell'impresa comporta questo mette in discussione termini e concetti il caso delle fabbriche trevigiane come dicevo anche prima lo fa nel senso abbiamo messo in discussione io per esempio prima ho citato il termine rivoluzione che tutti quanti mettiamo in relazione ad un'immagine piatta standardizzata sclerotizzata invece appunto l'abbiamo rideclinata perché pensare la bellezza su un piano moderno è il rapporto a qualcosa che invece appunto generalmente ci viene pensato nel senso comune come legato alla produzione all'ipertecnologia eccetera in realtà poi comunque ci porta a una revisione dei paradigmi che anche questo è interrogazione è una bellezza che interroga mette in crisi e ci porta a pensare come cambiare prospettiva ecco nella sua esperienza invece di imprenditrice l'arte ha avuto un ruolo diciamo di ispirazione o di racconti l'arte intesa anche come letteratura eccetera o come fonte di ispirazione ha un ruolo secondo lei sicuramente ha un ruolo anzi collaboriamo come azienda con anche degli istituti proprio per fare nel design del prodotto e quindi proprio come diceva Ginevra per fare degli oggetti che possano in qualche modo essere di un certo tipo poi come azienda sosteniamo l'arte spesso perché per noi è molto importante anche questo e quindi è sicuramente fonte di ispirazione per qualsiasi manufatto che venga fatto e crede che negli ultimi tempi sia un po' aumentata l'attenzione dell'impresa verso questi fenomeni verso l'arte in generale dico dell'impresa in generale non soltanto della sua secondo lei vede un cambiamento nella sensibilità rispetto a questi temi? ma sicuramente c'è un cambiamento verso questi temi nel senso che le aziende devono comunque cambiare e devono porre attenzione a certi temi importanti come si parlava prima sicuramente l'ambiente ma sicuramente anche altri quali appunto l'arte quindi io lo vedo assolutamente non tutte ahimè però e come non tutte sono queste aziende così ben raccontate perché ci sono delle aziende che purtroppo non sono proprio così io invece sono curioso di capire qual è stata la genesi del lungometraggio cioè se è stata un'idea vostra all'interno dell'azienda oppure se c'è stata una richiesta esterna del lungometraggio del film che è stato presentato alla mostra sì diciamo che era mia volontà raccontare la storia dell'azienda in un libro poi infatti il libro l'abbiamo appena realizzato quest'anno ho conosciuto Giancarlo Marinelli Giancarlo Marinelli al quale avevo chiesto di scrivere un libro ci ha chiesto ma perché non fare un film e così è nata un po' la storia sì tanto se c'è qualcuno al pubblico che ha qualcosa da chiedere alle nostre ospiti diciamo che proprio quest'anno abbiamo aderito ad un'iniziativa che si chiama Apriti Moda organizzata da Cinzia Sasso dove tutte le aziende più di cento aziende del Made in Italy aprivano le porte al pubblico noi a Treviso l'abbiamo aperte appunto di sabato e di domenica in ottobre e abbiamo avuto un'affluenza enorme da parte di tantissimi trevigiani che ci dicevano beh noi passiamo davanti a queste mura sempre e non sapevamo che dietro c'era c'era tutto questo e quindi è stata un'esperienza molto sentita da parte di tutti tra l'altro breve apriremo anche un museo perché abbiamo appunto delle macchine antichissime e si dicevo e questa diciamo iniziativa la ripeteremo sicuramente anche il prossimo anno e in quell'occasione si può visitare l'azienda non l'ha vista viene pubblicitata attraverso ho capito di spazzole no comunque era stata pubblicizzata magari può passare ci lascia l'indirizzo e la contattiamo quando quando lo facciamo allora io avrei un'ultima domanda per Ginevra conoscendo Ennio e sapendolo un personaggio vulcanico mi stavo chiedendo qual è il futuro della rubrica sul sito del comisso cioè qual è il futuro delle fabbriche della bellezza allora sicuramente continueremo nel senso abbiamo già altre tre uscite in cantiere quindi non voglio anticipare quali però abbiamo già visitato altre tre aziende e quindi ha inizio un nuovo ciclo che vogliamo se vogliamo appunto il primo si è chiuso con queste sette quindi per il momento questo sicuramente poi non so se Ennio vuole aggiungere qualcosa io non mi sbilancio vabbè ma questo è senza non diamo più la parola a Ennio sennò non si sa cosa possa succedere però insomma continueremo sta andando bene sta incuriosendo quindi insomma perché non perché fermarti qua ecco sì una cosa solo siccome poi i numeri vedi da quanti accessi che hai in internet sono accessi da tutta Italia cioè stiamo mettendo una lente di ingrandimento su alcune aziende e stiamo creando stupore in tante regioni italiane ecco questo è una cosa che non mi aspettavo pensavo che forse magari Veneto al massimo insomma invece è una cosa che è sì sì le persone si incuriosiscono anche nei commenti sui social anche sul mio social io sono romana quindi comunque ho un nucleo di persone che mi segue di Roma e tutti quanti a parte che conoscevano molti l'HK e quindi hanno fatto molti complimenti alle spazzole sono stati contenti di leggere la storia e anche le impressioni e molti poi si incuriosiscono leggono hanno fatto ordini per esempio di Bosa so due persone che hanno ordinato delle cose e quindi questo è bello perché poi si scoprono tante cose che non non si potrebbero conoscere altrimenti quindi insomma è anche proprio un'operazione utile se vogliamo nel senso bello ok bene grazie 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 fortunatamente è sempre stata una fabbrica che non ha mai avuto un impatto ecco sulla sull'ambiente nel senso che la produzione di spazzole è abbastanza innocua ecco le macchine sono cambiate rispetto alle macchine di 50 anni fa 30 anni fa sono macchine molto più silenziose sono macchine che non hanno sono completamente diverse quindi anche questo sicuramente influisce e e quindi no siamo riusciti a farlo devo dire che anche Treviso e l'amministrazione ci è sempre venuto incontro e anzi siamo un po' un fiore all'occhiello per la città di Treviso e sì l'unica rimasta in centro e come dicevo prima questa è secondo proprio qualsiasi altro imprenditore probabilmente avrebbe fatto appartamenti ai negozi lì dove siamo noi però a me piace stare lì e sento il calore ancora di chi c'era prima di me e questo lo si sente anche sul prodotto HK è un brand fra i pochi ancora rimasti nel mondo del beauty italiano e di famiglia tutte tutte queste aziende sono vendute a multinazionali e nel momento in cui vengono venduti a multinazionali per carità fattureranno di più cresceranno ma perdono completamente l'anima del prodotto e io vedo riscontro da tutti i miei distributori che ho in tutto il mondo che io visito e alcuni di questi sono diventati amici miei che proprio quello che viene apprezzato oggi è il fatto di essere un prodotto unico un prodotto non globalizzato un prodotto autentico e quindi anche qui vince di più il piccolo il fatto bene rispetto che ha un prodotto di quantità magari tutto perfetto però non più con l'anima di come era fatto prima sì diciamo di sì e anche le fragranze le fragranze si ispirano anche queste a piante fiori che si trovano nei giardini italiani e attraverso queste fragranze che vendiamo in alcuni casi più le fragranze che le spazzole raccontiamo proprio l'Italia i giardini italiani e la bellezza del nostro paese il libro lo si può acquistare via internet io lo lascerò anche qui comunque in libreria adesso ringrazio le nostre due ospiti per la chiacchierata e applausi grazie